è veleno salvati subito allora dunque ragazzi siamo qui per parlarvi della nuova edizione di you degli spettri eccolo qua ok il formato è 11 e mezzo ve lo misuro anche in diretta 11 e mezzo per 17 e mezzo non si discosta di molto dalla versione da edicola di Hunter Hunter dello stesso autore di Yoshihiro Togashi ok un tipico prodotto degli anni fine anni 80 e inizio anni 90 si vede tutto all'interno proprio perché il caratter design soprattutto di quel primo Togashi era proprio tipica di quegli anni ma se volete vi faccio vedere subito ecco vedete subito un'immagine lo vedete subito vedete una delle protagoniste tipico tratto di quegli anni lì il prodotto viene 5 euro e 90 rispetto ad esempio stesso prodotto di questo diciamo che è stato è stato fatto un qualcosina in più ad un prezzo basso qualcuno dirà sì è vero però la versione che c'era prima era più grande forse c'erano anche delle pagine a colori era fatta meglio meglio guardatevi questa prima di giudicare no sono sono usciti i primi due numeri proprio perché nei primi due numeri il prodotto parte un pochino a rilento e potrebbe anche non piacere alle nuove generazioni ma poi dopo dopo il secondo numero nel punto nel secondo numero sul finale si vede no c'è una sorpresa in qualche modo cambia cambia un attimino atteggiamento no prima era un manghino a episodi anche non tanto originale poi decisamente cambia registro è un prodotto che comunque ha avuto il suo successo ha avuto il suo successo anche in italia ma non esplosivo come il dragon ball no diciamo che hunter hunter l'ha fatto conoscere di più poi in realtà anche se comunque era un prodotto già interessante che se si seguiva all'epoca perché perché non è stato fatto una copertina super super colorata super metallizzata variant contro variant quello che volete intanto perché naturalmente se il prodotto va bene no ritornare ad andar bene le faranno perché queste ci sono le sovraccoperte quindi si può cambiare in qualcos'altro no noi impazziamo per queste queste varie queste sovraccoperte particolari quindi c'è sempre tempo e secondo è stato fatto appunto non per il collezionismo anche il prezzo ve lo dice no ma è stato fatto soprattutto per le nuove generazioni no ogni dieci anno questi prodotti che hanno avuto comunque una buona accoglienza vengono riproposte ogni dieci anni per le nuove generazioni che verranno quale quale potrebbe essere il problema di questo nuovo nuova scoperta per i nuovi lettori il fatto appunto che probabilmente ecco il tratto è invecchiato veramente male cioè si vede tutto si sente tutto che il prodotto è vecchiotto soprattutto anche come trama in questi questi due episodi quindi ai nuovi che lo devono leggere datevi un attimino del tempo aspettate almeno il terzo il quarto per vedere dove vogliamo andare a parare e sono è composto da 19 numeri in totale il prezzo è 5,90 insomma si può fare ecco non è un prezzo esagerato come lo vediamo adesso anche l'edizione non è esagerata io gli darei un set abbondante niente di così eccezionale no se mentre per questi prodotti posso dare un 6 no perché comunque sono prodotti appunto da edicola qua gli do qualcosina in più ecco abbiamo la solita copertina sovracoperta niente di particolare non abbiamo quelle edizioni belle dove all'interno dietro ci sono cose in più oppure che ne so ci sono sberlucichi strani rilievi eccetera e anche qua non abbiamo delle cose un po particolare diverse no da solito voi sapete che molti manga magari togliendo la sovracoperta qua hanno altro no io voglio fare l'esempio sullo stesso prodotto tipologia di prodotto ad esempio su questo che nonostante sia piccino come quello no come come misure secondo me a parte sovracoperta rimane la stessa cacatina insomma però vedete all'interno all'interno ci sono ci sono cose un po particolari che non riprendono la stessa stesso discorso alla copertina ma abbiamo vedete queste questi disegni nuovi no carini argentati insomma una cosa veramente carina a me piace poi tratto di delle illustrazioni stupende secondo me guardate questa che bella tutti i numeri di clamor sono fatti così ecco un'altra un'altra cosa che posso dire no perché questo do 8 e quello invece don 7 no buona buona lettura e perché questo vedete già solo a fare così si vede come si sfogliano le pagine molto si sfogliano molto bene le pagine la lettura è molto facilitata il volo del gabbiano c'è vedete sono pagine molto morbide non bianchissime quindi il volume tutto non pesa ecco quindi per per una lettura è veramente eccezionale ok ripeto c'è va a gusti c'è chi comunque gli piace avere il peso in mano le pagine bianchissime vi ho già detto quale sono le problematiche principali di questi prodotti piccoli pesanti che si aprono poco che riflettono la luce su queste pagine bianche ok ecco questo classico volume dove si fa un pochino fatica ad aprire il volume proprio per queste pagine un pochino più spesse bianche in realtà non riflette non riflette tantissimo la luce anche proprio perché la stampa star comics è veramente bella io lo guardo soprattutto quando ci sono i neri vedete guardate qua vedete quei neri uno dice cosa ci trova il nero non sempre non sempre durante le stampe questi neri risultano proprio neri ma si si vedono delle rullate ok con questo difficilmente vedo problematiche sulla stampa star comics quindi sono molto bravi su quello stanno peccando un pochino sul sulle colle adesso forse quando andiamo qua ecco questo lato qua forse non si vede ma lì ci sono dei buchini qua classico buchino delle del dell'aria che è entrata no non ci dovrebbero essere problemi però quelle quell'area lì no con il tempo potrebbe allargarsi quindi seccando le colle anche le pagine questo potrebbe classico né questa copertina potrebbe venire via ma è talmente semplice come rilegatura questa che vuoi insomma con un po di colla potete anche incollarlo se dovesse succedere una cosa del genere naturalmente risulta tutto molto pesante io avrei utilizzato un cartoncino anche un pochino meno fine l'edizione ripeto è buona no soprattutto per il prezzo soprattutto per farlo leggere da queste nuove generazioni l'unico l'unica cosa avrei appunto utilizzato delle carte un pochino più più morbide forse la star voleva accontentare anche un pochino i vecchi lettori vecchi amanti di quest'opera ecco ripeto non ci aspetta non c'è non ci dobbiamo aspettare per forza per ogni cosa no il cartonato e roba del genere questo come tipologia di manga ripete molto carino ma non lo ritengo un capolavoro rispetto a tipo hunter hunter no che si merita in questi questi grandi versioni con il cartonato eccetera dico soprattutto a chi non ha mai letto appunto alle nuove generazioni di leggerlo di dargli una possibilità questi tipi di prodotti probabilmente in questo periodo la vedo molto dura speriamo insomma che che va insomma che regga il confronto dei manga nuovi proprio perché ultimamente vedo dei manghini molto tristi cioè una generazione molto triste io non lo so perché quindi si producono questi manga e che hanno anche molto successo proprio per ragazzi problematiche probabilmente io direi che il momento deve essere deve essere deve tornare come iu degli spettri no c'è un fumetto un manga da leggere deve stare bene senza per forza avere avere all'interno di una trama sempre problemi che ci sono già li affrontiamo tutti i giorni vogliamo staccare un pochino una spina e leggere dei proprio dei manghini un pochino più leggeri è perché siccome iu degli spettri è un manga leggero è un buon manga no che poi ha messo le basi per per quella grande avventura che appunto hunter hunter non so se l'ho detto non ricordo bene però ecco gli avrei avrei ad esempio per 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 il tratto di yagi ad esempio no utilizzato invece delle carte un pochino meno grigiastre meno morbide no proprio perché perché comunque yagi ha un questo tratto un po un po delicato rispetto a quello no un po più delicato quindi si potrebbe alcune volte soprattutto all'inizio fatto fatica nel senso che si perdevano un pochino no i disegni di yagi su queste pagine che non erano totalmente bianche ecco un pochino un pochino più di luce ecco non sarebbe non sarebbe guastato ecco questo ovviamente proprio perché non non ci sono illustratori non ci sono non ci sono grafici all'interno o scopo semplicemente non gliene frega niente nessuno in tipografia di dove vuoi stampare tu mi dici dove stampare io te li stampo al di là di questo ve lo consiglio compratelo ragazzi soprattutto i nuovi vecchi se insomma se lo dovete comprare solo per far polemica lasciate perdere non ha senso far polemica su questo prodotto lasciamolo leggere le nuove generazioni azioni e voi tenetevi la versione vecchia io non ce l'ho più perché l'ho venduta per dirvi non è che gli ho dato così tanta importanza prima dell'uscita l'ho riletto in scan adesso giusto perché mi sentivo in colpa di averle io degli speri letto io dei spetti in scanner mi sono comprato le due copie ma penso che lo farò tutto insomma sono 19 numeri per per 5 90 quindi lo rileggerò di nuovo così in formato cartaceo e poi magari lo rivenderò ai ragazzi di telegram vediamo ok ragazzi se volete passate a trovarci su telegram faremo lì delle dirette vi aspettiamo si parlerà anche non solo di mangi fumetti e niente ciao alla prossima che c'è animali siete solo degli animali smettete di leggere fumetti su queste pagine bianche da subito subito